Naturalmente inutile dire che la fondazione pugliese è quella meno sostenuta da questo punto di vista. Allora la regione in uno sforzo che io ho apprezzato, intendiamoci, mi ha dato altri 500 mila Euro di fondi europei per l'attrattività territoriale, per il turismo. Ora io li accetto e me li tengo quei soldi, purtroppo però, proprio perché sono fondi europei, non possono essere utilizzati per il finanziamento degli spettacoli. Possono essere utilizzati per le attività collaterali di marketing e quindi ovviamente siamo al punto di prima, ci manca sempre un milione di Euro, che io spero la regione prima o poi ci dia. E la storia del Ministero come si risolve? Ho visto che i parlamentari... Devo dire che l'iniziativa che io ho preso sulla modifica in sede di conversione del decreto legge sulle fondazioni lirico-sinfoniche è andata benino, nel senso che i deputati del PDL e del PD, quelli pugliesi, stanno facendo per la prima volta un po' di lobby territoriale, perché si sono resi conto che questo decreto, se applicato ad una fondazione che non ha ancora fatto un'assunzione, rischia di stroncarne l'attività. Adesso speriamo che tutto vada bene. Ho visto che c'è una protesta generalizzata anche del San Carlo di Napoli, eccetera. Io avevo cominciato... c'è una telefonata? No, per fortuna. No, per fortuna. Come per fortuna? Per fortuna perché c'è... Questa è la trasmissione? È fatta con le telefonate. Ho capito. È anche fatta... C'è la telefonata. È tutta questa gente che ha scritto qua. Ma vabbè, ma sono quelli che al telefono l'hanno da aspettare. Ma questi hanno scritto. E rispondiamo per iscritti. Per tutto la cosa. Ma quelli in televisione... Prego. Buonasera, dottor De Lugo. Buonasera. Io devo fare a botte pur per farvi parlare a voi. Sì, infatti, infatti, grazie signor Sindaco, la saluto innanzitutto. Dunque, ancora una volta mi rivolgo a lei perché è così disponibile, purtroppo, per risolvere alcuni problemi che sembrano di poco conto, ma in realtà nel tempo diventano abbastanza pesanti. Mi rivolgo appunto a lei per telefono. E dottor De Lugo, ho preferito non scrivere perché vedo che... E' tanto qua, e me non si riescono a leggere. Sì, signor Sindaco, il problema è questo. Io sono una residente del quartiere Iapigia, di fronte Ipercop. Sì. E da parecchio tempo, siccome mi sono già rivolta all'Amio e quant'altro, non ho risolto, ci sono dei cassonetti cosiddetti per la raccolta degli indumenti usati. Quelli gialli. Ecco, esatto. Da uno sono diventati due. A parte il fatto che diventa l'attraversamento pedonale, diventa veramente un rischio. Ma è diventato anche nel corso del tempo un rischio per la salute, perché chiunque passa, apre questi benedetti i cassonetti, svuota tutto quello che periodicamente la gente viene e porta e tutto questo ovviamente ristagna in mezzo alla strada. Alcune volte addirittura delle paia di scarpe in mezzo alla... dove passano le auto. Ovviamente vanifica anche il lavoro che voi fate come comune, cioè Bari pulita, eccetera. Allora, appena piove questi indumenti si bagnano, ovviamente le zanzare la fanno da padroni. E questo l'abbiamo sopportato lo scorso anno, l'anno ancora precedente. Ho anche delle foto che riguardano queste cose. Le credo sulla parola. Lei ha una voce di quelle che le... Convince. Molto dolce. Molto dolce. Bellissimo, una bellissima voce comunque. Complimenti. Grazie. Va bene, allora, una idea, potremmo fare così, potremmo chiedere, perché quelli sono bidoni di una ditta privata, non sono del comune, una ditta privata che fa questo lavoro di raccolta degli indumenti, quindi fa una specie di differenziata, credo che bisognerà stabilire che questa ditta deve sorvegliare i suoi raccoglitori e deve provvedere, laddove sia necessario, direttamente al ripristino della situazione igienica, laddove sia alterata. Purtroppo ci sono delle persone, e questo alle volte non è credibile, molti non ci credono, ma c'è della gente talmente povera, soprattutto persone che vengono dall'estero, che vengono in città, che hanno l'abitudine di andare in questi contenitori per selezionare qualche indumento da indossare, naturalmente nel momento in cui tirano fuori gli indumenti, molti di questi non hanno la cura di rimettere dentro quelli che hanno tirato fuori e che non hanno prelevato, per cui credo che ci muoveremo in questa direzione, grazie. Anche Domenico Colaianne è una persona molto povera, è disoccupato, vive in un monolocale di 20 metri quadri, è un paziente del CSM, il centro di salute mentale, stavo leggendo prima, viene assistito farmacologicamente e sussidiariamente, il problema è che da un mese la sua rata di tot euro non è stata pagata e che serve per sostenere le spese dei farmaci, non sa che. La sua rata di che cosa? La rata, lui riceve evidentemente una rata, lui ha allegato anche il provvedimento della regione, non è una roba del comune, è una roba della regione, se si può fare qualcosa ha lasciato anche i suoi recapiti. Buonasera signor Sindaco, l'ho visto l'altra sera mentre passeggiava durante la Sagra di San Nicola, ha visto quanta gente, quanti pellegrini, ha visto quanta gente vendeva bibite fresche, aveva dei banchetti per allostire la carne, erano centinaia. Ah sì, questo l'ha fatto notare anche un'altra persona, quando stava prima a Simeone non succedevano queste cose, l'ignumeride, il forno, signor Sindaco, visto che quasi tutti questi non facevano lo scontrino, a lui pone il problema dello scontrino, anzi non avevano neanche i registratori di cassa e poi perché chi aveva la roulotte e il camioncino doveva fare lo scontrino e gli altri no? A questo punto è giusto che non lo faccia nessuno, lo scontrino, signor Sindaco, dove erano tutti i finanzieri, i politici, i vigili urbani, tutti quanti a portare il quasi San Nicola, che fanno? Controllano solo dei mercati, all'uscita dei negozi, signor Sindaco, dove è finita la legalità, Bari, città metropolitana, bla bla. Vabbè, non mi pare che ci fosse niente di diverso da tutti gli altri anni, certo, durante la festa di San Nicola bisogna ammetterlo, io camminavo e naturalmente molti di questi si spaventavano perché vedevano il Sindaco e alcuni di questi mi dicevano me ne vado, vado via, ma diciamo che è un altro segno della difficoltà ed anche della volontà delle persone in qualche modo di darsi da fare, qualcuno ha comprato un vasconi, ha messo due barre di ghiaccio e vendeva qualche birra, certo, avremo anche la possibilità di essere implacabili con queste persone, lo siamo tutto l'anno, probabilmente durante la festa di San Nicola abbiamo un po' mollato, mi scuso con il telespettatore che formalmente ha ragione, ci sono delle volte però, chiedo scusa, io ho fatto il magistrato tanti anni e faccio il Sindaco adesso, ci sono delle volte in cui non è che si tollera, ma come posso dire si considera il contesto per, diciamo così, in qualche modo anche spiegarsi alcuni eventi, noi credo dobbiamo fare in modo innanzitutto che non ci sia bisogno per i cittadini di questa città di improvvisarsi a rosti carne o venditori di bibite, se la gente non avesse bisogno non farebbe operazioni del genere, mi rendo conto però che dobbiamo anche tutelare il diritto di chi ha una licenza, un registratore di cassa, di vedere rispettata il suo ruolo e anche l'importanza che ha per l'economia. Io credo che in situazioni come queste, però lo riconosco, alle volte ci sono delle situazioni in cui mi piacerebbe parlare con i miei concittadini e chiedere loro che cosa avreste fatto al mio posto in quel momento, non è sempre facilissimo come ci sono molte lettere, fermo restando che mi assumo la responsabilità, diciamo delle cose che sono avvenute, dobbiamo mandare la telefonata, siamo d'accordo, però c'erano 100 mila persone sul lungomare di Bari, non è successo nulla, c'è una serenità e c'è una gioia di vivere in quei giorni che è stata straordinaria, anche se effettivamente qualcuno ha violato la legge vendendo qualche mezzo. Prima della telefonata che sta aspettando da un bel po' al volo, noi abbiamo fatto un polemos la settimana scorsa, è venuto anche Elio Sanicandro, anche in qualità di… Assessore allo sport? No, di Presidente del CONI. Insieme a Gianluca Pavaresta del piano strategico dell'area metropolitana, dove c'era anche Enzo Catalano, il fotografo che fa queste mostre, ha fatto la traslazione delle osse di San Nicola, ha fatto il percorso dei marinai, bla bla. La cosa che mi interessava dirti e che ho detto anche a Elio, la Taranta nel Salento è diventata un avvenimento planetario, mi pare che questa cosa l'ho detto già un'altra lavoro. Noi abbiamo San Nicola.